Parlando dell'affaire Ferragni-Fedez, Sofia dice da una parte sì, è giustificato quest'odio. Se tu mostri negli anni sempre gli stessi contenuti, ville, villoni, borse, outfit, arredamenti, alla faccia dei poveri. Cioè se io esco con una borsa di Hermès che non ho, se io esco con un cappotto di Louis Vuitton, se io esco con un vestito di Prada e mi fotografo, alla faccia dei poveri. Allora, A. Mostrare brand di lusso e farsi pagare per questo è parte del loro lavoro. B. Quando ho detto che Fedez è un uomo di successo, tutti gli ignoranti scrivono sotto. T'ho tirato a anulatolo. Ma perché ho fatto canzoni di successo? A parte che Fedez, che non è che vado pazzo per Fedez, ma a parte che Fedez fa milioni di streaming quando fa un pezzo. Solo mille con Orietta Berti ha fatto una quantità di milioni di streaming incredibile. Poi vi può piacere o meno, ma questo è un altro discorso, tutti gli artisti ci possono piacere o meno. E' solo, credo, l'8-10 massimo per cento è il suo core business, la musica. Fedez si occupa di altro. Fedez ha delle aziende che gestisce con la madre. Chiaro? Il lavoro di Fedez non è fare il cantante. E' che voi vedete solo quello. Ma Fedez fa molto altro. Fedez è un uomo di successo ed è un uomo ricco che Dio lo benedica. Perché fa molto altro, non perché fa il cantante. E' giusto perché sulla pelle dei bambini. Ma sulla pelle dei bambini che cosa? Ma voi avete idea di come funzionino le sponsorizzazioni con questi personaggi? Voi non ne avete alcuna idea di come funzionano. Succede che arriva una mail di un'azienda alla mail della segretaria della segretaria della segretaria di Chiara Ferragni che dice la signora è disponibile per fare questa operazione. Allora quella non si consulta. Chiara Ferragni non sa niente. Hai capito? La segretaria della segretaria della segretaria si consulta con un team. Ok? E dice che dite ragazzi la facciamo? Perché Chiara Ferragni non è una persona. È un marchio. Voi non riflettete, non sapete, non conoscete, non sapete niente da parlare. Allora quelli sì, facciamo questa campagna. Poi chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato deve pagare giustissimo. Ma per carità ci mancherebbe altro. Chi sbaglia paga e i cocci sono i suoi, come si dice, no? Quindi il problema da questo punto di vista non si pone. Ma sei parente? Tu dirai, ma sei parente che li difendi? Ma chi li conosce? Ma manco mi sono simpatici. Hanno idee politiche completamente opposte alle mie. Io parlo di una questione di principio che voi non conoscete. Buona parte di voi non conosce. Non sapete cos'è il principio. Voi vi applicate sul fattaria. A voi vi piace l'ingiuccio. La verità è che a voi piace il pettegolezzo, l'inciuccio. Poi un segretario di un'edizione di un altro segretario chiama la segretaria personale della Ferragni e le dice che la signora si deve trovare a tale ora, a tale posto per fare questo video. Lei, che fino a quel momento si è occupata di suoi figli, di suo marito, che è uscito dall'ospedale, eccetera, eccetera, va sul set e gira quello che le dicono di girare. D'accordo? Poi si trova in mezzo ai casini, perché è chiaro, è lei che ci mette la faccia. E chiede pure scusa. Finta, non finta, non lo so. Qua tutti bravi a interpretare che quel video è finto. Ma come fate? Siete psicologi. Conoscete tutti il linguaggio PNL, il linguaggio neurolinguistico. Conoscete, sapete tutto di tutto. Ma beati voi. Ma beati voi. Tu tirate. Faceva finta, si vedeva. E che ne sai? Ehi, come ti permetti di dire una roba del genere? Di una persona che non conosci su un argomento che non sai, che è lo sport principale di TikTok, no? Quello di parlare di ciò che non si conosce, su account di cui non sai assolutamente niente. Cioè, spargere la propria e inutile opinione. Dici, anche tu lo stai facendo, ma io lo faccio sulla mia pagina, sollecitato da chi mi chiede a me. Non mi sognerei mai di andare io sulla pagina di Sofia di Silvestri a scrivere una cosa. Non la conosco, non mi permetto. Ci mancherebbe altro. Ma questo è un altro discorso. Questo attiene, come dire, alla psicopatia di questo sistema che TikTok ha creato. Ma va benissimo così. Insomma, chi se ne frega. Tanto vi cancello e vi blocco. Quindi potete scrivere quello che volete. Vi cancello e vi blocco. A prescindere, diciamo. Quando non mi piace, cancello e blocco. Perché non... La vita è già troppo breve per... Come dire, la bruttezza non può avere luogo sulle mie pagine. Solo bellezza. Dice, ma allora tu vuoi solo approvazione? Sì. Voglio che mi seguano solo quelli a cui piace ciò che dico. Gli altri se ne devono andare. Bloccatemi. Non vi voglio. Ve ne dovete andare. D'accordo? Quindi, ecco. Questo è il mio pensiero. Sbagliato? Ok. Ma è il mio. Fatevene una ragione. Quindi, qua siamo alla rivalza... Cioè, se io... Ma scusatemi, ma non vi fa più impressione che i nostri politici sono i più pagati del mondo? Ma non vi fa impressione che prendono 16.000 euro al mese? Non è più quello uno schiaffo alla povertà. In fondo, Chiara Ferragni e il marito lavorano. Vivono di questo. Lavorano. Hanno delle aziende. Ma poi Chiara Ferragni, che voi vi ostinate a definire influencer, è il direttore creativo di aziende mondiali. Poi, non vi piace, non vi piace, ma Chiara Ferragni è nata come influencer. Ma oggi Chiara Ferragni è a capo di una serie di aziende. È una imprenditrice. Fa il direttore creativo di firme importantissime che voi manco ci potete camminare al marciapiede di fronte quando vedete quelle boutique. È chiaro? Di che cosa state parlando, eh? A me mi sembrava strano che avevano tutti quei miliardi. Ho tirato alla faccia dei poveri bambini. Che cosa? Che cosa? Inoltre, io non sto difendendo nessuno. Perché a me, di Fedez e di Chiara Ferragni, non importa alcunché. E se non sapete che vuol dire alcunché, andatevelo a studiare. Io parlo del principio. Che so che per voi è un concetto astruso, mi rendo conto che è un concetto troppo alto, mi rendo conto. Ma io parlo del principio. È chiaro? Come si può dire che una persona che veste firma... Allora, tutti quelli che hanno le barche e che fanno i selfie e che li pubblicano su Instagram, stanno dando uno schiaffo alla povertà. Steven Basalari dà schiaffi alla povertà. È uno degli uomini più ricchi che conosco. Eppure aiuta un sacco di imprenditori. Però ostenta il suo. Non potete dire che non ostenti il suo lusso, no? E che probabilmente voi il lusso di Steven Basalari non lo comprendete. Perché voi non conoscete quell'orologio. Non conoscete quella maglia. Ok. L'altro che fa i balletti, Gianluca Vacchi, non ostenta la sua ricchezza. I capi di Stato non ostentano il loro potere e la loro ricchezza. I nostri politici non ostentano i cappotti in cashmere di loro piana a 10.000 euro al cappotto quando l'intervista striscia la notizia che stanno andando. E che voi non conoscete quei cappotti. E che voi non sapete niente. Niente di niente. E mentre felicemente, felicemente, Soros sta alle Barbados sostenuto dai suoi lacchè di colore che lo sostengono dal suo panfilo e gli fanno fare il bagnetto voi pensate al panettone balocco di Chiara Ferragni. Ah! Ecco un maggio sfucato.